Italia, patria delle opere incompiute, lo rivelano i nuovi dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti raccolti dall'anagrafe delle opere pubbliche incompiute, aggiornata al 31 dicembre 2014. Secondo i dati analizzati, a guadagnare il gradino più alto del podio della regione con più opere avviate e poi dimenticate è la Calabria. Sul 649 opere pubbliche non completate, 93 si trovano infatti nella nostra regione. Segue a ruota la Puglia con 81, la Sardegna con 67 e con un certo distacco le altre regioni, fino al Trentino Alto Adige, che di opere incompiute non ne ha neppure una. Consultando il sito dell'anagrafe delle opere pubbliche è possibile visualizzare online gli elenchi di tutte le regioni. Si scopre così che in Calabria a non essere completate sono strade, reti fognarie, impianti sportivi, nuclei industriali e ancora soprattutto i lavori di messa in sicurezza di alcune zone considerate a rischio idrogeologico. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valencia, i lavori sospesi, bloccati o interrotti per mancanza di fondi sono quelli che riguardano ad esempio il progetto di completamento della strada provinciale per Triparni, con annesse opere igienico-sanitarie per il risanamento della zona. Nel resto della regione si tenta ad esempio di completare i lavori per la messa in esercizio della diga Redi Sole nel Cosentino, i lavori di completamento della rete fognaria nel quartiere Pitera di Catanzaro, il completamento dell'acquedotto, delle dighe del Metramo e dell'Ordo a servizio della fascia costiera ionica e tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Ma la lista è molto lunga e copiose sono soprattutto le risorse economiche necessarie per accorciare un elenco destinato ad allungarsi.